musica 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 ma si è impiccato ma cosa cazzo sto vedendo musica 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 Questa è la missione con Makarov No ragazzi Queste cose non potete farle No non si possono fare queste cose Non si possono fare queste cose no No E poi è bello che le ha consigliate tiktok queste cose qui Non è che dici Madonna ma è grossissimo sto cane Oddio un colibri Che fastidio No bro 700 kg magari meglio non Come sistemare un monitor Fatto Come sistemare un monitor Scusa ma in che senso Leo Questo sei tu Hai capito Hai capito come si fa eh Eh vedi Parato del migliore Ma pensate a quest'altro Ma che cazzo fa Vedi 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 Frost si è usato bene Sometimes it's nice to take a break from reacting all these crazy videos you guys tag me in I'm sure do you love a good cooking video What? Sometimes it's nice Eh infiliamo la zucchina eh E lui fa il doppiaggio di tutto Questo ve lo faccio vedere a voi eh Finito? Perfetto Grande Grande Qualcuno di voi ne sa una più del diavolo Ah lo sapete raga che voi quando fate la graduation in America potete andare vestiti come volete Ma anche in Giappone penso questa roba qua Tipo qua c'era Non so se forse è questo Madonna di Dio Puttana bastarda Ma questo qua ha vinto Ha vinto tutto ha vinto Non ha fatto vedere il professore che era rimasto col dreadful 025 Quando sei miope esci senza occhiali Ehi tu sei bianca vero? Ma questa è una serie tv? Ci sono questi 20 secondi di attesa tra la risposta di Dalla risposta della domanda di lui e la risposta di lei che Ah è mercoledì? È mercoledì? Porca puttana la devo guardare subito Ma com'è possibile? Chi cazzo è? Megamind L'ultimo update può causare un infinite blue death screen Grandi quelli di windows Ma grandi Quelli di microsoft Sono i numeri 1 Che domanda Ragazzi Cioè mi sembra ovvio Dovresti sentire il verso che fa Che domanda Palese Era chiamata questa Era chiamata E il bambino ha già capito Il bambino ha capito Ha capito cosa deve essere Come bisogna stare sereni nella vita Ma cosa sto facendo? Ma gli americani No bro No bro Ma due dita al pollo Gli ha infilato Ma io non ho parole E fu così che fece una brutta fine Signora A donde voi Che me voglio pegare una ostia No Ma lo sapevo Che succedeva una cosa del genere È devastante Devastante Cioè Quando Halloween va in piazza Vestito da prete per catturare Le persone mi guardano in faccia E fanno Aiuto scappate Oddio ma questo è il mambone Sì Mambone Zio cane L'ha fatto volare via L'ha sderenato Basta Distrutto Ragazzi Sono due che stanno litigando Mi sa che stanno Come cazzo si fa raga Apro la bocca La bocca te la sei distrutta Ma come fai Ma come fai Ma che cazzo avete in testa Ma potete preferire la Playstation A una fessa Ma mia mia Io non è Che la preferisco E sia chiaro Ma secondo te La fessa Gli è capace A vincere tre Champions League Di fila con il Pisa Ma è mamma mia Ma è mamma mia Sì